Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come creare una propria risoluzione personalizzata per i giochi e per il vostro monitor quindi in questo caso per le impostazioni di Nvidia sul pannello di controllo di Nvidia se non hai questa impostazione di Nvidia ti ho lasciato un link in descrizione per scaricare questo pannello tu ci clicchi sopra e andiamo così a modificare la nostra risoluzione quindi se vai su modificate la risoluzione tu qua puoi scegliere una tua risoluzione personalizzata come puoi vedere personalizzato io ho creato varie risoluzioni ma questo metodo faccio questo tutorial per quelli che vogliono modificare la risoluzione nei giochi come su Fortnite e su altri giochi quindi per giocare bene per giocare per fare una bella partita ed essere molto competitivi con lo schermo con la grafica allungata e anche un po' schiacciata vedi meglio i giocatori li ammazzi subito vedi veramente benissimo e quindi questa risoluzione è perfetta quindi io ogni tanto per giocare uso il 1780x1080 però se tu vuoi crearti una tua risoluzione di modificazione quindi andiamo su personalizza crea risoluzione personalizzata ed eccolo qua ovviamente io metto velocità di aggiornamento 165 perché il mio monitor è fino a 165 Hz pixel orizzontali e linee verticali quindi qui io vado a mettere un 1080x1080 profondità colore 32 e velocità di aggiornamento 165 e faccio prova e proviamo com'è questa risoluzione ed eccola qua immaginatevi giocare a Fortnite con questa risoluzione quindi crea risoluzione personalizzata ovviamente l'abbiamo creata e la vostra risoluzione sarà bisogna mettere la spunta qua sopra se no non esce qua facciamo ok quindi adesso salgo sopra ed eccola qua 1080x1080 ed eccola qua ovviamente su ABS Studio non me la fa vedere molto bene comunque questa è la risoluzione su come crearla ed eccola creare una risoluzione sul proprio monitor e per i giochi quindi se questo video ti è stato utilissimo su come creare una propria risoluzione sul gioco velocità di aggiornamento la puoi modificare sempre qua sopra iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao